Allora caro amico Claudio, oggi mi sento particolarmente buono, quindi non ti faccio fare nulla che possa mettere in colomità la tua vita. Cominciamo con qualcosa di molto soft e poi vediamo come va. Allora Claudio, la vedi quella piccola bancarella? Lì di fronte? Il stile padrino, gli devi chiedere il pizzo, però nello stesso momento si capisce che non ce la fai. La devo prendere 12 per cento qua, io, mi hanno mandato qua. Ah sì? Più mafioso, più mafioso. Mi dia il 12 per cento? Sì. Quando? Sei pieno di debiti, ti sei comprato una fanta e quindi hai dei debiti. Io sono pieno di debiti. E allora? Ho comprato la fanta e la devo pagare con i soldi che ci sono qua. Ah, allora? Sui lavori? Il mio lavoro è questo, chiedere il pizzo. Ah sì? Devi prendere una pistola a spara bollicina ai giochi, così almeno compensa con qualcosa, per ora. Se non mi dà i soldi sono costretto a prendere la pistola a spara bolle e ammazzare le persone. Ecco, mi riempie che vuole. Aspetta, dammi la... Aspetta, scusa, scusami, dammi la... Vedi che vuole. No, no, che cosa? La devo prendere. Che vuole? Mi deve dare il 12 per cento. Sentai, dove vuole il pizzo? Che vuole? Di che cosa il 12 per cento? Di tutto quello che c'è qua. E tu cosi? Io qua sono io, quello che comanda. Eh va bene. Viene quando viene il cibo principale? No, mi deve dare il 12 per cento, poi ne prendo la pistola a spara bolle e sparo. Vai, vai, minaccia con la pistola a spara bolle. Questa. Senti, lascia stare con su me. Questa è quella di Spiderman. Lascia stare con su me. Ascolta. Spara a spara bolle, perché in quel caso è pericoloso. Senti una cosa, sei venuto in pace? Sono venuto per il 12 per cento. Ecco, e vattene in pace. Eh, se mi dai il 12 per cento... Allora, io ho comprato la Fanda che costa del 12 per cento del 12 per cento. I carabinieri per caso? I carabinieri no, perché potrebbe finire male. Allora, vattene in un minesto. No, no, per me, per voi. Vattene! No, no, per un minesto tu. La spada allora. Scusami, a che titolo sta venendo? Allora, io non lo posso dire, però mi hanno mandato il 12 per cento. Baciamo le mani. E tu vattene? Baciamo le mani, baciamo le mani. E vattene, dopo baciamelo. Dopo me le bacia, allora aspetto qua. Ascolta, che è meglio per te, vattene. Dai, però fammi finire presto, perché questo mi finisce male, ah. Va bene, dai, te ne puoi andare. Cos'è? Io sono della polizia di giudizia. Ah, e della polizia? Giudiziaria. Ah, quindi buono. Perfetto, lì stava finendo un pochettino male, però. Ci sta, ci sta. Devi fare il finto vecchio, no? Ti siedi accanto e gli dici, ah, sogno tutto rotto. Ah, sogno tutto rotto. Ai miei tempi non c'erano tutti sti cosi. Ai miei tempi non c'erano sti cosi. Ormai le dà la panza. Ancora qualche te. L'acciosi, Aio. Io non ce la faccio a camminare. Aio, l'acciosi. Eh, boi, che c'è tu. Devi dire, facciamo una tombolona. Ah, facciamo una tombolona assieme. Ah, stiamo moreno. Ma che sei anziano. Anch'io sono anziano. Aiuti, perché stiamo moreno. E si stava meglio quando si stava peggio, vero? Che si stava meglio quando si stava peggio. Ormai i giovani di oggi non aiutano più, se ne vanno. Questi giovani di oggi. Perché ve ne andate, amici miei? Volevo fare una tombolona insieme. Non ve ne andate, amici miei? Voglio fare una tombolona insieme a voi. Magari ci scambiavamo le pillole per il colesterolo. Magari ci... No, vale, è troppo cattiva questa. Ma dal vecchietto, quello che sta leggendo il libro, devi leggere quello che c'è scritto a voce molto alta. Dopo! Dopo! Adesso fammi sentire. Risponde lui e mi zittisce. Avevo sognato tutto quello che mi è accaduto in questi ultimi dieci anni. Continuo, continuo. Per strada venivo riconosciuto dei passanti. Così mi toccarono il membro. Come se è un orgasmo. E io dissi... Ah! 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 Devi dire, io sono Christian K. Comunque lei, devo confessare una cosa, lei l'ha letto 50 sfumature di nero? Di grigio, no? No, c'è anche di nero, c'è di grigio di... Cioè, in realtà io sono un po' più grigio che nero, perché nero c'è un mio amico, che si chiama Balotelli, che è mio amico. Io sono il protagonista dei 50 sfumature di grigio, sono Christian Gay. Ah, bene, va bene, bravo. Adesso dagli un bacino nella testa. Sì, sì, ma... No, no, la sinistra, la sinistra. Io nella vita rombo le scatole. Eh, lo so potente. Mettiti il cartone, il cartone. So fare la scatola a persona, la scatola nella faccia. E ora no. Sono di fronte a lei. Devi stuzzicare le ragazze. No, no, stuzzico io stasera che c'è un aperitivo con i miei amici. Eh, affondo. Da grande voglio diventare una grande ballerina. Da grande voglio diventare un grande ballerino, guardi che cosa so fare. Fagli una piruetta davanti. Immagina me con la gonnellina, le scappe per ballare, io faccio così. Ma sì, perché sono famoso. Sono Christian Gay, gliel'ho detto. Poi la morte del cigno, anzi, la morte della cacca rara. Ah, le faccio vedere l'ultima cosa, me ne vado. Questa è la mostra della cacca rara, mi dà la mano? Claudio, sei diventato un ladro, però un ladro molto maldesco. Devi rubare il cestino della spazzatura a quel povero signore. Cerca di metterlo nello zaino, mi raccomando. Attira la sua attenzione, Claudio. Grazie, grazie, mi serviva questa. Non ti saccare. Qua non stiamo giocando. Perché mi sta levando le cose dallo zaino? Togliti lo zaino. Non capire, togliti lo zaino. Ah, togliti lo zaino. E allora che stiamo giocando? Non mi deve rubare le cose dallo zaino. Ma perché mi sta rubando le cose dallo zaino? Mi sta rubando la spazzatura. Senti, i giovani dobbiamo lavorare, non lo sto chiamando la polizia. No, e poi gli dico che mi ha rubato la cosa. Ma forse è frutto della sua fantasia. No, no, da scherzare. Dai, forse. Cerca di andare via, perché sto chiamando la polizia. Ultimo step. Carellata di scherzi. Claudio, fermati di fronte a queste persone, a questi turisti, e inizia a ballare come se fossi in preda a crisi epilettica. Buttati a terra. Claudio, adesso devi chiedere indicazioni, però gridando. Scusi? Piazza Duomo dov'è? Ve lo sa dire dove è Piazza Duomo per caso? Ma che vuoi? Dov'è Piazza Duomo? E che ne so io. Come che ne so? Io non so mica di qua. Più forte, non ti sente. Non è di Catania? No. E di dov'è? Ma che ti importa? Così, per sapere. Vabbè, stai facendo una gaga con quello lì, con quel cittino. Stavo facendo uno scherzo. Eh certo. Stavo facendo uno scherzo. Claudio, rifarlo a quel ragazzo con la maglietta rossa? Scusa, Piazza Sesicoro dov'è? Da sopra. E come si ci arriva? Tutto dritto. Urla, urla, urla. Dritto. E poi? A destra. A destra cosa? Ma no. Dilli, ma per andare a fanculo come ci si arriva? Ma per andare a fanculo dove devo andare? A Careri. A Careri, mi fai compagnia? Ci andiamo assieme. No, grazie, mi neanche io. Me lo batti a cinque? Fra, che ora è? Me lo puoi dire? Luna. Ma perché gridi? Tu stai gridando. Tu stai gridando. Adesso digli cretino. Cretino. Vediamo tu, Cis. Claudio, fai un bel rutto. Scusi, per quella parte? Va bene. Non mi esce. Tranquillo, ora mi esce. Ve lo sto preparando. Ce l'ho qua. Vai, vai. Claudio, ripeti. Ma che ruttini sono? Ora mi esce. Mi è uscito. C'avevo un beso qua dentro. Finalmente l'ho liberato. Ragazzi, cattivissimi amici di questo mese. Finisce qui. Fatemi avere tanti commenti in questo video. Mi raccomando, ci tengo. Se volete che Claudio comanda me, fatecelo sapere. Mettete molti like. Spolliciate. Condividete. E arriviamo a 5.000. Poco? No, va bene, va bene. A 5.000 like per il prossimo video. E commentate. Hashtag Claudio Troia. Grazie a tutti.